La sosta selvaggia sul lungomare di Pescara indigna cittadini e amministrazione comunale. Un problema che si ripropone con cadenza annuale. L'alta stagione richiama turisti e abruzzesi fuori provincia e spesso si assiste ad una vera gincana per raggiungere marciapiedi e aree pedonali. Arriva subito il piano parcheggi studiato e approntato per salvaguardare i mesi estivi, la circolazione e la buona immagine della città. Il vice sindaco Enzo Del Vecchio delinea le aree a pagamento e gratuite messe a disposizione dei cittadini per non incorrere in sanzioni e collaborare al decoro cittadino. Abbiamo così diviso la città in due tronconi, la parte nord e la parte sud. Nella parte nord abbiamo recuperato la disponibilità di soggetti privati a mettere a disposizione delle aree a ridosso delle naieri che ospiteranno circa 800-900 posti auto. è stata completamente ripulita, messa a norma secondo le condizioni che ci hanno imposto le norme e anche le indicazioni dell'assessorato all'agricoltura e della forestale. Per quanto riguarda l'area sud, ci sono tutte le aree messe a disposizione intorno al teatro d'annunzio e allo stadio. Anche in questo caso, sempre con la GTM, abbiamo predisposto, è stato predisposto un servizio a cadenza, le corse a cadenza più breve in modo da garantire tutto il percorso del lungomare sud in modo da offrire un servizio all'altezza della situazione. Due le aree pensate per la sosta, una nel versante nord a pagamento con una tariffa di 3 euro al giorno e l'altra nell'area sud tra il teatro d'annunzio e lo stadio adriatico, totalmente gratuite oltre al servizio navetta messo a disposizione dalla GTM. A questo si aggiunge anche la disponibilità comunque delle aree di risulta che nelle precedenti esperienze comunque non hanno offerto una significativa attrattiva. Per questo l'abbiamo tenuto a titolo gratuito però abbiamo concordato insieme con la GTM un servizio di bus con corse a cadenza più breve in modo da garantire anche a questi fruitori dell'area di risulta un trasbordo veloce verso la spiaggia.